Mi chiamo Lino Vavalle, sono del comitato Cascinagatti. Il progetto proposto è pensiline fermate a autobus del quartiere 5. I cittadini che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici constatano ogni giorno la faticienza, se non addirittura la mancanza delle pensiline alle fermate degli autobus. Chiediamo quindi l'installazione di quelle mancanti e il ripristino di quelle esistenti, utilizzando lo stesso sistema in vigore a Milano Città, dove all'interno della pensilina, quindi protetta dalle intemperie, sono posizionati sia il percorso dei mezzi che gli orari. Ovviamente tutto ciò tenendo in particolare considerazione le esigenze dei portatori di handicap. Crediamo, come comitato, che sia superfluo spiegare il perché va votato questo progetto. Pensiline fermate a autobus per il progetto sesto.